Sia lodato Gesù Cristo. Prima di passare alla lettura del messaggio vi invito a scendere in descrizione del video che state per iniziare, dopo o prima che inizierà il video. Per poter accedere sul mio blog troverete il link in descrizione con i miei libri e come Gesù ha detto negli ultimi messaggi a Luzio di Maria il tempo sta scadendo e quindi dobbiamo fare le scorte non solo di cibo ma anche di libri. Quindi in descrizione vi lascio questi libri bellissimi che ho scritto per un cammino migliore di conversione e per la gloria soprattutto di nostro Signore Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo, benvenuti fratelli e sorelle in questo messaggio della nostra Santissima Vergine Maria nelle apparizioni di Tervignano Romano. Andiamo a leggere il messaggio del 3 marzo 2024, poi leggeremo la riflessione di Gisella sullo stesso messaggio e poi aggiungeremo, ispirati dallo Spirito Santo, una nostra breve e personale riflessione sul messaggio in questa Apocalisse, fine dei tempi che stiamo vivendo. Figli amati grazie per essere qui nella preghiera e per aver piegato le ginocchia in questo luogo benedetto. Figli vi chiedo in questo momento dove tanti sono i cambiamenti intorno a voi abbiate fiducia, fiducia in Gesù. Figli solo Dio può darvi la pace in un mondo così tribolato dalle guerre, falsità e ingiustizie. Ancora una volta vi chiedo fiducia in colui che è morto per la vostra salvezza. Urlate anche da questa collina di seguire il Vangelo, nient'altro che la voce del Vangelo. Io sono con voi, non temete. Ora vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Breve riflessione. Ancora una volta la Madre di Dio ci ringrazia con infinito amore per esserci radunati in preghiera attorno a lei, ai suoi piedi. È molto commovente quando la Regina del Cielo ci ringrazia per esserci recati da lei, quando dovremmo essere noi infinitamente grati a lei per essersi assentata dal Paradiso per stare con noi. L'invito materno che scaturisce dal suo cuore virginale è quello di avere fiducia solo in Gesù, l'unico nostro Signore e Salvatore. Lui solo può illuminarci e guidarci sul vero cammino della fede per non deviare dai suoi comandi che sono unici e non negoziabili, alla luce del falso singretismo religioso che vediamo ormai diffuso ovunque, dove Gesù viene riconosciuto come uno dei Salvatori e non come l'unico Salvatore del mondo. Questo perché si sta cercando di seguire le mode religiose che il mondo propone, il motivo per cui la Madonna ci chiede di urlare dalla collina e in ogni luogo del mondo la verità del Vangelo che non può essere cambiato persino rinnegata, come purtroppo sta accadendo talvolta anche all'interno della Chiesa. Per questo non scoraggiamoci ma sforziamoci ogni giorno di diventare veri testimoni del Vangelo perché lei ci avvicina, non dimenticandoci che suo figlio è morto in croce per la nostra salvezza. Continuiamo con amore il nostro cammino cuoresimale in attesa del grande giorno della Resurrezione. Buon cammino a tutti. Ecco, in questo messaggio la Vergine Maria ci chiede di annunciare il Vangelo. Per annunciare il Vangelo dobbiamo prima di tutto viverlo. Non è facile. Un conto è annunciare, un conto è prima di tutto viverlo, perché se non lo viviamo noi non lo possiamo annunciare. Ed ecco che in modo subliminale la Vergine Maria, la nostra Madre Santissima, ci chiede di vivere e mettere in pratica il Vangelo e poi questo Vangelo dobbiamo diventare noi esseri viventi, figli di Dio, figli della Regina Celeste, la Madonna e dobbiamo con il nostro esempio mettere in pratica tutte le disposizioni che ci sono sul Vangelo, gli insegnamenti di Gesù, degli Apostoli e della Vergine Maria per portare speranza in un mondo che la Vergine Maria in questo messaggio ha definito pieno di tribolazioni, guerre, falsità e ingiustizie. E questo ci fa commuovere perché il Cielo conosce tutte le situazioni di questo mondo e vede tutte le ingiustizie, le guerre, le sette, i falsi profeti, vede tutto il marcio che c'è nelle nazioni, conosce tutti i segreti del diavolo e dell'elite di questo mondo. Ho bevuto un attimino e quindi la Vergine Maria ci chiede di mettere al centro della nostra vita Gesù e di non scambiarlo per uno dei tanti salvatori di questo mondo. In questo mondo non ci sono salvatori, c'è soltanto un salvatore per il nostro Signore Gesù Cristo. Gesù Cristo che ha creato l'universo col Padre, nel Padre e nello Spirito Santo. E questo universo è infinitamente immenso, abitato da umanità che servono Lucifero come quella della Terra e umanità che servono Dio, come i mondi redenti dove ci sono le anime di quella categoria di persone che noi chiamiamo defunti. Sono mondi e mondi immortali dove servono la Santissima Trinità giorno e notte e quindi abitano nei vari Eden e paradisi che ci sono in questo infinito universo e poi ci sono i mondi come il nostro che sono consacrati al diavolo e dove ci sono infinite infinite giustizia e infinite guerre. Ma la Vergine Maria ci chiama oggi ad annunciare il Vangelo con la nostra vita perché il tempo è scaduto e quindi siamo già nella grande tribolazione ormai da quasi un anno e mezzo, una grande tribolazione che è formata in due step, la purificazione e poi l'inizio dei segreti di Međugorje. Questa grande tribolazione che ci spoglierà e ci metterà tutti allo stesso livello, questa grande tribolazione che è uno dei tanti disegni del Padre affinché tutti dobbiamo essere messi alla prova per rientrare nella selezione di coloro che abiteranno il Nuovo Ceno e la Nuova Terra e di coloro che andranno in paradiso. Ci troviamo in una grande battaglia, ci troviamo nell'Apocalisse. Per comprendere l'Apocalisse vi lascio in descrizione e qui in sovraimpressione il libro dell'Apocalisse. Se volete acquistarlo tramite sempre il link che trovate in descrizione e vi porto nelle mie preghiere. Sia rodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria.